noi siamo quello che siamo anche grazie alla cura che riceviamo dagli altri e gli altri possono avere una vita migliore con un significato anche più più profondo più bello grazie alla cura che noi possiamo rivolgere loro non possiamo vivere senza prenderci cura degli altri o senza ricevere la cura da altri anch'io in quanto missionario adesso qui in thailandia sento che in tanti modi il signore si prende cura di me attraverso le persone che il signore mette lungo il mio cammino o attraverso le persone che hanno uno spirito missionario penso a tutti gli amici e tutti i giovani che in italia fanno animazione missionaria e che sono con noi non sono fisicamente con noi ma camminano con noi si prendono cura di noi missionari attraverso l'affetto che va al di là delle frontiere al di là del tempo e attraverso la preghiera e il fatto di sentirci famiglia allargata che abbraccia il mondo intero e poi ci sono tanti piccoli gesti tante manifestazioni che ci fanno veramente capire che il signore ci prende cura di noi attraverso tante persone prendersi cura dell'altro qui dove noi siamo in modo particolare nella più grande baraccopoli della della capitale della thailandia bangkok è la nostra missione in quanto missionari prendersi cura dell'altro è un'esigenza è una necessità se non ci prendiamo cura dell'altro significa che non siamo non siamo missionari e come lo facciamo noi qui in thailandia lo facciamo prima di tutto dando il tempo agli altri all'inizio quando siamo arrivati non parlavamo la lingua per cui ci è voluto un po di tempo per per imparare fin dall'inizio ci siamo detti non fa niente perché la cosa più preziosa che noi abbiamo è il tempo ed è spendendo del tempo con la gente che noi ci possiamo prendere cura degli altri anche senza parlare troppo anche a volte senza sapere come poter concretamente aiutare questo è il primo è il primo aspetto il secondo è quello di mettersi allo stesso livello di mettersi alla pare perché siamo fratelli e sorelle religioni diverse età diverse modi di pensare diversi però gli stessi allo stesso livello per cui dando il tempo è in questo tempo che noi diamo mettendoci a livello degli altri a volte ci viene da ridere quando spesso passiamo delle giornate intere a giocare con i bambini a giocare a pallone a disegnare a fare cose che uno si dice boh a 45 anni dopo aver studiato tanti anni di teologia ma forse sta perdendo tempo invece no è il fatto che per noi questo è un modo per prendersi cura degli altri delle persone che stiamo servendo e poi la preghiera la preghiera noi iniziamo la nostra giornata nel centro dove siamo anche con i laici anche con i buddhisti cattolici insieme la mattina con la preghiera e finiamo la giornata la sera con la preghiera perché sappiamo che noi siamo qui strumenti di dio che stiamo servendo soprattutto gli ultimi perché poi prendersi cura di tutti i fratelli e sorelle però in modo particolare degli ultimi di coloro che hanno più bisogno e lo facciamo quindi anche attraverso la preghiera che diventa per noi lo sprint per iniziare la giornata ma anche per concludere la giornata nel signore per cui l'augurio che noi tutti i missionari possiamo prenderci cura dei fratelli e delle sorelle che il signore ci mette lungo il cammino dando il nostro tempo mettendoci alla pari della gente come fratelli e sorelle e pregando gli uni per gli altri buona missione missionari sempre